Lungo del portiere Manolas Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione Cerca spazio Son Yung Min Posizione regolare Palla tagliata bassa Prova il corso Vediamo se il lancio arriva a destinazione Manolas Ben posizionata Intercettato il pallone Ecco Vanni La Roma Prende subito il possesso della sfera Ecco l'occasione di contropiede Gioca con un pallone lungo L'albito assegna un calcio di posizione interessante La Roma sta adottando una soluzione tattica inconsueta Guarda i terzini come si accentra Mi sono approcci interessante La toglie dalla porta Ottima la parola del portiere Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato Si sbagliava Fabio Ci mette una pezza Prova il filtrante Vivo a tempo strano Nel cosenso Buono la profondità Prova la verticalizzazione E fa un salvataggio molto efficace Perfetta la parola Non ha sbagliato nulla L'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito Prova la giocata di fila Vici in ottima posizione Gioca una palla lunga Gli avversari stanno sbagliando tanto Ma bisogna dare il giusto credito in questa difesa Balla fuori Gioca E prendo la attima una massa Sonni un mino Raccoglie il passaggio dalla ripropria La difesa riesce a cavarsela in questo caso Prova a fare tutto lo so Hardy E coltura ma efficace Gioca ci mette la testa Ottima l'azione Conclusione però non all'altezza Ottimo senso della posizione Ha impuito bene la direzione del cross Forse avrebbe meritato anche il gol E passa Sonni un mino Sulla sinistra Da un attimo avversario Magli di pallone alto nello spazio Pallone in verticale Il direttore di gara decreta un calcio di punizione Sulla sinistra Acqua qui mai Chi ed è successo Cerca un compagno, prova a passare con un pallone profondo. Tentativo di allungare il gioco. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare la bersaglia. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato un po' evidenziale. Il portiere da caccia lontano. Manolo Lasso, è conquista la palla. Passaggio sulla destra. Prova la giocata dello spazio. Cerca spazio. Opportunità di ripartire. Vuole la profondità. E ora è qui, pallone sprecato. Torpisce. Rende parata. Sono finiti i primi 45 minuti. Squadra negli spogliatori. Primo tempo intenso. Ci ammuriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. In trombe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Come ti sono sembrati questi 45 minuti? Hanno buttato al vento l'occasione di sfruttare la debolezza difensiva sul lato sinistro. Allenatore avversario approfitterà sicuramente della pausa per dare un giro di vite alla sua retroguardia. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. Iniziano i secondi 45 minuti. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un bacio più avanzato. Il risultato non rispetto delle sposte. Ma se giocano come nel primo tempo credo che porteranno in casa la metà. Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Parco a senso. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che ne prove un buon pallone. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Stanno rendendo la vita impossibile agli avversari con una difesa da manuato. Palla riconquistata immediatamente. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Intercetta e sboglio una situazione che si faceva molto pericolosa. Il guardalini ha alzato la pallone e fuori gioco. Fantastico pallone filtrante di prima intenzione che aveva colto tutti alla sprobbista. Peccato che il destinatario fosse in fuori gioco. Palla di nuovo sotto l'uno contro l'altro. La mette in avanti. Sonnyunmin. Prova la giocata nello spazio. E c'è una palla filtrante. Bella apertura. Si libera la grande. Attenzione al tiro. Un soccolo spoglio del portiere. E arriva così il gol del vantaggio. Da lì e senza difensori. E in pensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Giocata davvero molto intelligente. Per il gol. Giocata davvero molto più difficile sbagliare. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati E il risultato si sblocca, 1-0 Qualsiasi cosa abbia detto loro l'allenatore ha funzionato, 1-0 Alloggiare con questa domanda Occhio, può andare Devono riprovarci Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario Infatto Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale Prova Magri D Prova il più grande Intercetta il passaggio pericolo Ultimo passaggio impreciso, dovrà essere una buona opportunità Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio Piazze su uomini, tutti altri, vogliono sfruttare al massimo Sì, cercano l'occasione Occhio alla conclusione E c'è il gol Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita Una conclusione assolutamente imparabile Credo che non abbia nemmeno guardato la porta La sentiva Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto Due gol di vantaggio e partita in discesa Hanno la partita in mano, non c'è dubbio Possono gestire il risultato e far scorrere il tempo Accelerio Roma, si riappropria del pallone, può rimpostare il gioco, Shaqiri, bell'anticipo, ma è quello sventato, cerca l'uomo là davanti, Ouzi Kulamma, si è fatto trovare pronto, Sonnyon Min, provano a partire in velocità, vuole la profondità, ottimo passaggio deve tirare, stavano a spento il conto di un insidioso, non ci hanno messo la pezza, ecco il quadrato, cerca spazio, una buona palla, ha spazio per cercare il barco, cerca il tiro, traversa, ma non è finita, ha spregato per la verità un grande opportunità, una grande occasione di tornare in partita, la loro delusione è comprensibile. La mette dentro, i due giocatori fanno a sportellare, e trova il compagno, può andare, prova la conclusione, e potevano portarsi sul 3-0. Avrebbe potuto chiudere il discorso qualificazione, e lui lo sa. Sembra di avere eretto un murdo, può tutta una conclusione, scambio perfetto, tutto perfetto, meno di due. Ci sono fatti largo per vie centrali con un bellissimo 1-2, quando questa giocata riesce, per gli avversari difendere diventa difficile. Palla in avanti verso il compagno. Sono in me. Se ne va. E' un casino da rito. Non si fermano più, ancora segno. E con un vantaggio di tre gol, la partita è quasi chiusa. Grande azione. Tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi giusti. Ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. E sono tre. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. Beh, la sua sfida con i difensori avversari oggi è decisamente vinta. 3-0 dunque. Fuori non di molto, arriva anche il fischio dell'arbitro. Stavano per trovare il gol proprio alla fine, ma non ce l'hanno fatta. Molte cose positive oggi direi. Soprattutto lo straordinario momento degli attaccanti. Che partita si è sembrata, Luca? La solidità difensiva è una grande...